Sanità, in stallo il Biotecnopolo e il Centro Nazionale Antipandemico di Siena. L'assessore Simone Bezzini ha risposto all'interrogazione presentata dalla consigliera Anna Paris. Migranti, no alla realizzazione di un CPR in Toscana, discusse e votate in aula tra emozioni sull'argomento, approvata a maggioranza quella del PD, respinte quelle di Fratelli d'Italia e Lega. Pesca dilettantistica, il 15% delle acque interne in concessione alle associazioni, la legge illustrata in aula da Mario Puppa passa a maggioranza con 22 voti favorevoli e 13 contrari. Il progetto del Biotecnopolo di Siena e del Centro Nazionale Antipandemico ad esso connesso sono al momento bloccati, lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, rispondendo in aula a un'interrogazione al riguardo presentata dalla consigliera Anna Paris. «Siamo davanti a una fase di stallo e di incertezza per il futuro», ha detto Bezzini. Come hanno ricordato Bezzini e Paris, il governo precedente ha deciso di far partire nell'ambito del Biotecnopolo il Centro Nazionale contro le pandemie, con investimenti previsti di oltre 300 milioni per allocare l'Hub. Ma, ha rilevato Paris nella sua interrogazione, da mesi si assiste a uno stallo dovuto anche alla scelta del governo di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione e di nominare un nuovo presidente del Biotecnopolo. Questa interrogazione è stata depositata più di 15 giorni fa. Allora, sul metodo l'assessore si è rivolto alla persona giusta, si è rivolto per avere informazioni su quanto ho richiesto al presidente della Fondazione Biotecnopolo, in quanto parte rappresentante legale, quindi rappresentante che è tenuto, penso, a fornire queste informazioni. Però non ho avuto nessuna risposta da parte dell'assessore, in quanto non ha ricevuto informazioni al momento su questo progetto, che oramai ha più di un anno e mezzo di vita, dove ci sono in gioco tante risorse, ma a parte risorse, ma su che cosa si parla? Si parla di studio su nuovi vaccini per eventuali nuove pandemie, si parla di monoclonali, si parla quindi di tutto un campo fondamentale per tutti noi, per la sanità toscana, italiana, mondiale. Invece ancora non sono state scritte neanche, abbiamo lo statuto e non si è fatto ancora nulla. Ci sono in ballo tante risorse che risalgono alla finanziaria per il 22-24, sul Biotecnopolo ci sono 340 milioni, noi non sappiamo nulla. Il problema è che dopo 14 mesi il Biotecnopolo e il Centro Nazionale contro le pandemie sono sostanzialmente fermi, non si è visto nulla di concreto, quindi c'è uno stallo sostanziale nel portare avanti questo progetto, c'è una grande incertezza sulle prospettive e questo a mio avviso è un grande problema. È un grande problema per Siena e per il proprio territorio, perché stiamo parlando in qualche modo di investimenti che potrebbero generare anche opportunità di sviluppo ed opportunità di lavoro, è un grande problema per la Regione Toscana che da sempre ha investito sul tema del biomedicale, dell'innovazione della ricerca nel campo delle scienze e della vita ed è un problema per il Paese, perché il Paese rischia di rimanere sguarnito di questo centro e soprattutto della struttura nazionale contro le pandemie, per cui io ho assunto anche un'iniziativa nei confronti del Biotecnopolo chiedendo chiarimenti, il Biotecnopolo ovviamente fa riferimento al Governo e chiedendo chiarimenti su quello che sta succedendo, per ora non sono arrivate le risposte, mi auguro arrivino nelle prossime settimane e mi auguro che le preoccupazioni diciamo siano confutate e che ci arrivino delle rassicurazioni, però purtroppo oggi ci troviamo in una fase di stallo e in una fase di grande incertezza su quello che poteva essere un progetto qualificante per la Toscana e per l'Italia. Costruire una fondazione che andasse ad investire a livello nazionale su un hub antipandemia è una fondazione che potesse anche prevenire le patologie del futuro, un grande stanziamento economico, grande visione, Siena al centro delle politiche nazionali, oggi abbiamo un governo di centro-destra completamente inerte che sembra in questo momento dimenticarsi di Siena e c'è la debolezza della politica a dare piedi e gambe a quello che è stata una grande intuizione. Io credo che Siena debba rimarcare la propria centralità rispetto a questo progetto, lo debba fare Siena, lo debba fare la Toscana, lo debbono fare gli scienziati della Toscana che hanno avuto questa intuizione, qui c'è un know-how di conoscenze, di cultura e di storia che è in grado di produrre un grande livello di formazione, un grande investimento finanziario ma anche grandi opportunità di lavoro. Siena deve difendere con forza questa intuizione, queste risorse e quindi il governo deve assumersi le sue responsabilità che oggi sono gravissime, di non avere dato seguito a quella grande intuizione. Quindi noi solleciteremo con forza questo intervento e vogliamo e rivendichiamo che avvenga a Siena e possa produrre effetti ed efficacia quanto prima. Approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale, la mozione del PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, che impegna la Giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà a ogni ipotesi di CPR, centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio regionale, 24 i voti a favore del PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva e 12 i voti contrari Lega e Fratelli d'Italia. Respinte invece le mozioni presentate da Fratelli d'Italia, prima firmataria Elisa Tozzi, in merito all'adesione della Regione Toscana all'intesa nazionale sui migranti e quella della Lega, prima firmataria alla capogruppo Elena Meini, in merito all'istituzione necessaria di un CPR in Toscana. CPR che si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza, dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora, in base all'ultimo decreto, possono accogliere questi migranti addirittura per 18 mesi. e dal dibattito che ne ha scaturito abbiamo, come dire, anche compreso qual è la concezione che la destra ha dei CPR, cioè vale a dire un surrogato delle carceri, ma non è questo, cioè le persone che delincono in Italia, di qualsiasi nazionalità siano, devono andare in carcere. Ma chi non ha i requisiti e chi non ha commesso reati non può stare fino a 18 mesi in dei luoghi che si rivelano dei luoghi di detenzione, spesso anche gestiti in qualche modo da personale che non è sufficientemente specializzato. Ecco perché noi abbiamo con questa mozione ribadito il nostro no alla realizzazione del CPR in generale e in Toscana in particolare. Anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al ministro Piantedosi del sindaco Nardella, però quando il governo chiede Toscana facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un CPR, la risposta è no. La sicurezza parte e passa anche da un CPR. In Toscana il CPR lo faremo, in Toscana il CPR il governo lo farà, lo farà naturalmente perché arriveremo anche ad un accordo con la regione Toscana, a un accordo su dove il CPR nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'Anci perché c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi. Pensate a quante ore la nostra polizia, i nostri carabinieri trascorrono in macchina portando un singolo immigrato in un CPR che è molto distante dalla Toscana. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di più sicurezza, abbiamo bisogno di più militari, il governo risponde sì ogni qualvolta la regione o i sindaci senza distinzione di colore chiedono un contributo o un intervento da parte del governo e questo deve essere reciproco. Il tema è talmente serio che oggi comincia ad essere impellente scegliere anche di fare il CPR. Purtroppo la Toscana ancora una volta si pone a blocco contro il governo nazionale e lo fa per un pregiudizio esclusivamente ideologico non rendendosi conto che questo approccio in realtà è distante anni luce rispetto a quella che è la percezione del tema che hanno i cittadini. La speculazione che si fa sul tema immigrazione ormai è sotto gli occhi di tutti, si richiama costantemente alla responsabilità del governo nazionale quando sappiamo bene che per decenni il messaggio che è stato mandato dai precedenti governi di centro-sinistra è stato quello per cui in questo paese si potesse arrivare in modo indiscriminato attraverso i barconi perché tanto qualcuno avrebbe soccorso nel Mediterraneo. Questo ha lasciato la strada aperta a favorire anche un traffico illegale. Oggi si richiama l'attenzione su questo tema in modo molto più forte anche in Europa. Dire che il governo non sta facendo niente su questo credo che sia concentralmente sbagliato e soprattutto privo di qualsiasi onestà intellettuale. Invece la Toscana oggi sarebbe stata chiamata a fare la sua parte con uno spirito di maggiore collaborazione. Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a un muro ideologico. Dare il 15% delle acque interne in concessione alle associazioni di pescatori per le attività di pesca dilettantistica. La legge che interviene sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne è stata approvata a maggioranza dall'Aula dopo un acceso dibattito e una sospensione per mancanza del numero legale. L'atto si è reso necessario per assicurare un miglior presidio dei corpi idrici di interesse per la pesca in relazione alla tutela della fauna ittica. Illustrato dal vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, Mario Puppa, ha ricevuto 22 voti favorevoli e 13 contrari. La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca dilettantistica. Noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrenti o fiumi per valorizzarli al meglio, attrezzandoli, facendo in modo che siano popolati da fauna autottona e anche in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica. In questo modo cercheremo, attraverso un emendamento che è stato approvato in Commissione e che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori, intanto delimitato il margine da un 100%, l'abbiamo portato al 15%, quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale, saranno interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della giunta e che avrà un titolo gratuito ma impegnerà le associazioni dilettantistiche della pesca ad apportare attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti. Una valutazione positiva che è uno scatto in avanti, una proposta, un impegno assunto e preso e mantenuto che consente alle associazioni di poter gestire dietro una concessione che appunto la Regione può concedere delle acque interne per un uso dilettantistico della pesca, quindi le associazioni avranno una opportunità nuova dentro dei limiti previsti dalla normativa che consentirà loro di autodeterminarsi e soprattutto di svolgere un'attività controllata nel contempo dentro i limiti che la stessa legge prevede, quindi una cosa positiva che non limita l'iniziativa singola ma che tutela anche le forme associative che a loro volta promuovono l'attività della pesca dilettantistica. La valutazione sulla legge sulla pesca credo che si possa tranquillamente sintetizzare con una parola, disastro. Credo che sia una legge fatta ad hoc per una promessa mantenuta dall'assessore Saccardi e dal presidente Gianni e non lo dico io, lo dicono delle loro dichiarazioni in una conferenza stampa di circa un anno fa dove dicevano promessa mantenuta ad una singola associazione, tutte le associazioni, le altre associazioni di pesca sono indignate, è veramente una cosa impensabile che chi fa pesca, un'attività sportiva, una passione debba pagare il tesserino più debba pagare a un'associazione la possibilità di poter pescare in un tratto di fiume. Il PD ha fatto molta confusione, ci sono alcune associazioni nazionali che sono tendenzialmente favorevoli rispetto a questa proposta, altre più locali che invece temono una privatizzazione dei corsi d'acqua. Alla fine nel dubbio il PD ha presentato un emendamento che restringe al 15% il totale delle acque interne che si possono concedere in uso alle associazioni, ma non si è capito dove vengano individuate né con quali criteri, per cui può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no. Quindi avevamo posto a queste altre questioni anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca, magari un'associazione che esprime indirizzi ideali e un soggetto non condivide, pertanto non abbiamo ritenuto diciamo di esprimere un voto perché ci sembrava doveroso tornare in commissione e chiarire questi punti, perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge. Grazie a tutti!